Una lunga scia bianca è comparsa ieri nel canale diversivo Ovest, comunemente detto canale della fame. Alcuni automobilisti in transito nella zona di via Veneto hanno segnalato la presenza anomala della schiuma bianca che ha quasi interamente invaso il corso del canale. La sostanza partiva da una cascatella del rio e si prolungava per decine di metri ricoprendo quasi interamente l'acqua. Non è stato segnalato invece alcun odore anomalo nella zona. Nella tarda serata la schiuma era ancora presente nel canale. Il personale di Arpa ha prelevato campioni della sostanza inquinante per capirne l'origine. Non si esclude che si possa trattare di liquami zootecnici come già avvenuto in altre occasioni. L'esito delle analisi arriverà nei prossimi giorni.